Anche dopo la sua morte i video hard e le parodie circolavano in rete. Si tratta di Tiziana Cantone, la 31enne della provincia di Napoli che lo scorso 13 settembre morì suicida a causa della diffusione dei suoi video hot sul web. I legali della famiglia Cantone e gli avvocati orefice e imperato che stanno istruendo una pratica per chiedere al garante della privacy la rimozione immediata di video e parodie, dicono. Sono almeno 100 gli url dei video su Tiziana, anche di assurde parodie, segno della totale mancanza di umanità. Intanto la procura della Repubblica di Napoli Nord, guidata da Francesco Greco, sta preparando un'arrogatoria da inviare a Apple perché sblocchi l'iPhone di Tiziana e consenta di risalire anche a immagini e messaggi andati persi. Ieri il Tribunale Civile di Napoli Nord con un'ordinanza ha parzialmente rigettato il reclamo di Facebook Irlanda, dando invece ragione alla madre della vittima Teresa Giglio sul fatto che quei video andavano rimossi una volta accertata l'illiceità dei contenuti. Il collegio presieduto da Marcello Sinisi ha però accolto la parte del reclamo presentata dai legali di Facebook Irlanda disponendo che non sussiste alcun obbligo per l'hosting provider di controllare preventivamente tutte le informazioni caricate sulle varie pagine. Facebook adesso, sostiene Andrea Orefice, uno dei legali della famiglia Cantone, ha il dovere morale di fornire tutti gli elementi utili a individuare le generalità di quelle persone che nascoste dietro falsi profili hanno aperto le pagine su cui sono stati caricati i contenuti diffamatori. Bisogna ricordare che lo scorso 3 novembre la procura della Repubblica di Napoli, su richiesta del PM Alessandro Milita, aveva chiesto l'archiviazione nei confronti di quattro persone che erano state querelate per diffamazione dalla stessa Tiziana. Va avanti invece l'inchiesta per l'istigazione al suicidio per quanto fu detto e scritto alla donna in seguito alla diffusione del video. La cultura sposa il patrimonio enogastronomico italiano e tra le bellezze archeologiche degli scavi di Pompei per la prima volta arriva il cibo degli antichi romani. Siamo passati da un'immagine negativa a un'immagine molto positiva di riscatto e rilancio grazie al lavoro del soprintendente Massimo Zanna insieme con i generali del grande progetto Pompei, Mistri e Curatoli. Lo ha detto il ministro per i beni culturali Dario Franceschini che stamattina Pompei ha preso parte alla presentazione di It Story, da noi il cibo ha una storia, iniziativa con la quale la Col di Retti propone il menu degli antichi romani a visitatori del sito archeologico. È davvero un modo molto intelligente di parlare di un aspetto meno conosciuto della storia di Pompei e renderla attuale perché il cibo e le nostre tradizioni di oggi sono figlie di quel tempo e di un lungo percorso che ha attraversato le generazioni. È stato inaugurato a Napoli il World Press Photo, la mostra dedicata al meglio del fotogiornalismo internazionale. Gli scatti 150 sono esposti al primo piano di Villa Pignatelli fino al prossimo 27 novembre. All'inaugurazione erano presenti la direttrice del Museo Denise Pagano assieme a Vito Cramarossa e Francesco Mucciaccia dell'Associazione Cime, organizzatrice dell'evento a Napoli, in collaborazione con il Polo Museale della Campania. Anche il sindaco De Magistris ha visitato l'esposizione con la guida speciale di Sofì Bosweres, exhibition manager e curatrice per il World Press Photo. È una mostra che ho avuto modo di vedere anche già a Bari perché mi trovavo in occasione dell'Assemblea Nazionale dei Comuni Italiani, ma torno volentieri a dare il benvenuto perché sono fotografie davvero struggenti, molto profonde, che danno il senso di quello che sta accadendo recentemente nel mondo.